Dall'ottobre del 2022 che ho iniziato con i cerotti della LifeWave, quindi è un anno circa che li uso. Quello che è successo per me, io avevo sindrome dell'intestino irritabile da 15-20 anni circa ed era abbastanza severa e adesso non ce l'ho più. Ho usato X39 Ion ogni giorno, sempre. Adesso uso anche X49, IceWave e insomma li uso quasi tutti adesso. Avevo anche una cisti gangliare sul polso. Il dolore iniziava dal pollice e andava fino al mignolo. Mi hanno proposto un intervento chirurgico sul palmo delle mani perché è lì che iniziava il dolore. Mi hanno detto che avevi potuto perdere l'uso della mano interamente e adesso la cisti è quasi sparita. Muovi molto bene la mano, vero adesso? Sì, 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 veramente, sono molto casata, grazie. Avevo anche artrite in ambedue le ginocchia e volevano farmi un'operazione. Io ho detto aspetta un attimo, controllo la mia dieta, uso i cerotti e vediamo cosa succede. E sono migliorato tantissimo.